Buongiorno, presentiamo la racchetta da ping pong modello twister della Garlando in vendita sul sito www.timesport24.it è una racchetta 5 stelle, categoria allenamento come caratteristiche tecniche abbiamo un'intelaiatura in legno dello spessore di 6 mm una spugna di elevata qualità dello spessore di 1,8 mm il tutto rivestito da una gomma liscia come caratteristiche di gioco abbiamo da una scala da 1 a 10 un controllo di 8 un effetto spin del 9 e una velocità del 9 ricordiamo inoltre che è in vendita sul sito www.timesport24.it